La magia del Natale a Cimina con la seconda edizione delle vie dei presepi. La magia del Natale a Cimina con la seconda edizione delle vie dei presepi. La magia del Natale a Cimina con la seconda edizione delle vie dei presepi. In realtà l'intento era quello di colpire Carmelo Testa Grossa. Un vero rebus complicato da informazioni false e reticenti, afferma la questura in una nota, che hanno reso difficile persino la scoperta del luogo dove l'assassinio era accaduto. «E' stato un caso particolarmente complesso», afferma il capo della squadra mobile Rodolfo Ruperti, «perché sin dall'inizio i familiari della vittima hanno deliberatamente depistato le indagini, ma alla fine siamo riusciti a ricostruire cosa era realmente accaduto. E' stato un vero e proprio depistaggio, ma il loro piano è fallito, determinanti alcune intercettazioni. I familiari avevano provato a portarci lontano», prosegue Ruperti. «Ci avevano indicato un luogo, quello del ferimento, che era distante addirittura un chilometro dalla strada dove erano realmente avvenuti i fatti. Il vero luogo dell'omicidio lo abbiamo dovuto scoprire noi da soli dopo più di sei ore». Giuseppe Lombardino, presunto autore dell'omicidio, è attualmente in stato di fermo come indiziato di delitto su disposizione del sostituto procuratore Amelia Louise e dell'aggiunto Ennio Petrigni. Il fatto, in base alla ricostruzione degli investigatori, alla squadra mobile di Palermo sembra si sia sviluppato per motivi legati alla droga. Già il testa grossa sarebbe stato ferita a coltellate e successivamente avrebbe subito il nuovo acquato nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, dove Lombardino gli avrebbe sparato contro alcuni colpi di pistola, che hanno mancato il bersaglio, raggiungendo però il nipote. L'episodio è successo in piazza Benvenuto Cellini e sembra che i parenti abbiano tardato nei soccorsi. Se solo avessero chiamato il 118, dicono gli investigatori, Lombardino forse poteva essere salvato. Invece l'uomo è stato portato in auto al pronto soccorso dell'ospedale e lasciato lì, ma ormai aveva perso troppo sangue ed è morto dissanguato per il proiettile che lo ha raggiunto all'inguine. Il presunto omicida è stato rintracciato in casa di un amico e in base a quanto affermano gli investigatori era già pronto per la fuga. E adesso parliamo dell'emergenza freddo. Scatta il piano del comune di Palermo per i clochard. Attivo 24 ore su 24, un numero di telefono per segnalare alla polizia municipale senza tetto in difficoltà. L'assessorato alla cittadinanza solidale di concerto con le associazioni che operano nel territorio ricorda che è attivo il piano operativo per l'emergenza freddo. Sono attivi cioè i servizi di ospitalità notturne per tutti coloro senza fissa dimora che decideranno di chiedere accoglienza e il relativo trasporto dalla strada ai posti al chiuso, in collaborazione con gli enti del terzo settore che gestiscono i servizi di emergenza sociale per conto dell'amministrazione, come dormitori, assistenza notturna e diurna su strada, ricoveri di urgenza e mensa e gli enti di volontariato che si occupano dei senza dimora. Per contattare la centrale operativa della Polizia Municipale relativamente alle segnalazioni per l'emergenza freddo in città, Il numero telefonico attivo è il seguente 091 67 33 432 I cittadini potranno effettuare le segnalazioni a partire dalle ore 19.30 e al fine di consentire un'adeguata presa in carico, possibilmente entro le ore 22. La Polizia Municipale attiverà i servizi diretti dell'amministrazione oppure valuterà la necessità di altri interventi. Servizi di ospitalità, spiega il Comune in una nota, sono rivolti a tutti senza fissa dimora che decideranno di chiedere accoglienza in collaborazione con tutti gli enti che gestiscono i servizi per conto dell'amministrazione e gli enti di volontariato che si occupano dei senza dimora perché di loro non bisogna mai dimenticarsi. Donazione del sangue. Il 2019 a Villa Sofia Cervello si chiude con segnali positivi. È stata consegnata una targa all'Associazione Fratres per il suo impegno nella raccolta. Per la donazione del sangue a Villa Sofia Cervello il 2019 si è chiuso con segnali molto incoraggianti. È quanto emerso nel corso della cerimonia di consegna di una targa di ringraziamento all'Associazione Fratres per la sua attività a favore della raccolta del sangue che si è svolta a casa amica al campus di ematologia cutino dell'ospedale Cervello. Di fronte ad un fabbisogno anno di 22.621 unità è stata registrata una raccolta interna di 13.337 unità con una riduzione sensibile quindi della quota di dipendenza dall'esterno. Nel periodo estivo, luglio-settembre, le donazioni sono invece passate da 483 a 686. Il solo fabbisogno per i circa 200 pazienti in cura al campus è di circa 5.300 unità di sangue all'anno. I dati sono stati presentati dal direttore generale Walter Messine e dal direttore del campus di ematologia Aurelio Maggio, responsabile ad interim della medicina trasfusionale di Villa Sofia Cervello. Per migliorare questo trend, l'azienda ha creato già dalla scorsa estate una rete costituita da enti, associazioni e forze dell'ordine, fortemente impegnate per garantire una continuità nella raccolta del sangue che scongiuri fasi di emergenza, in particolare nel periodo estivo, storicamente il più difficile su questo fronte. Presenti all'incontro anche le altre associazioni, come l'Ufficio Diocesano della Pastorale della Salute, grazie all'adesione dell'Arcivescovo Corrado Lorefice, l'Associazione Donatori della Polizia di Stato, la Croce Rossa Italiana, l'Associazione Piera Cutino, tutte impegnate nella rete insieme alle tradizionali associazioni di donatori presenti da anni a Villa Sofia Cervello, come appunto la Fratres e la Talassa. Per il 2020 l'obiettivo è attivare nuove convenzioni e allargare la base dei donatori, come ha auspicato anche Attilio Mele, dirigente del Servizio Trasfusionale dell'Assessorato Regionale alla Salute. La direzione aziendale, ha sottolineato il direttore generale Walter Messina, ha ritenuto e ritiene prioritaria e strategica l'azione per implementare la raccolta del sangue. L'appello lanciato nei mesi scorsi ha dato i primi risultati e ha portato alla creazione di una rete che vogliamo sostenere e far crescere, anche attraverso una campagna promozionale, affinché il 2020 sia ancora migliore e non presenti momenti di criticità. Saldi 2020, una famiglia su due farà acquisti. Feder Consumatori consiglia, leggete il nostro decalogo per fare gli acquisti giusti. La Regione Sicilia è quest'anno la prima ad aprire il periodo dei saldi. Il 2 gennaio, mentre nella stragrande maggioranza delle altre regioni i saldi partiranno il 5 gennaio. Ma tra messaggi, telefonate ed email ai clienti, le vendite a saldo e presaldi con sconti anche fino al 40%, i saldi sono iniziati già da tempo. La normativa regionale li ha praticamente liberalizzati, basta solo non pubblicizzarli prima dell'avvio ufficiale. Fare stima su quante famiglie faranno acquisti durante la stagione ufficiale dei saldi e su quanto spenderanno quindi è molto difficile. La proiezione è che circa il 48% delle famiglie siciliane, cioè circa 961.000, faccia acquisti a partire dal 2 gennaio fino alla fine dei saldi. La spesa media per famiglia sarà di circa 208 euro, con un conseguente giro di affari ipotizzato che sfiora i 200 milioni di euro. Ma si tratta di numeri che potrebbero non trovare piena conferma nei fatti. Il problema è che con il proliferare delle offerte e degli sconti è sempre più difficile isolare i commercianti e i fanni furbi. Feder Consumatori Sicilia per questo ha aggiornato il suo decalogo di consigli per affrontare i saldi invernali senza rischiare di essere raggirati. La raccomandazione più importante è quella di verificare, prima della loro partenza ufficiale, il prezzo del prodotto che si intende acquistare, anche fotografandolo con il cellulare per avere una prova certa del prezzo originario. Solo in questo modo sarà possibile valutare la reale convenienza dell'acquisto ed evitare le furbate di qualche commerciante scorretto. Non fermarsi mai davanti alla prima vetrina, confrontare i prezzi e in ogni caso orientarsi verso beni o prodotti che servono veramente. Difidare dalle vetrine tapezzate dai manifesti che non consentono di vedere la merce o che reclamizzano sconti eccessivi, pari o superiori al 60%. I saldi possono non interessare necessariamente tutta la merce del negozio, quella a saldo però deve essere tenuta separata e ben individuabile rispetto a quella a prezzo pieno. Occhio al cartellino del prezzo su ogni prodotto deve essere indicato obbligatoriamente di modo chiaro e leggibile il vecchio prezzo, quello nuovo e il valore in percentuale dello sconto. Difidare dall'acquisto di capi di abbigliamento che non si possono provare. Da giugno 2014 inoltre i commercianti hanno l'obbligo di accettare il pagamento con carte di credito Bancomat tramite posse per cifre superiori a 30 euro. Conservare sempre lo scontrino quale prova di acquisto. Il 2020 al Teatro Massimo di Palermo inizia con un doppio concerto di Capodanno. Il primo gennaio alle ore 11 il concerto di coro di voci bianche, coro arcobaleno, cantoria e massimo kids orchestra. Mentre alle 18.30 coro e orchestra si esibiranno nel tradizionale concerto di Capodanno. Entrambi saranno trasmessi in diretta sul maxischermo in Piazza Verdi. Il 2020 al Teatro Massimo di Palermo inizia con un doppio concerto di Capodanno. Il primo gennaio alle ore 11 il concerto di coro di voci bianche, coro arcobaleno, cantoria e massimo kids orchestra, diretti da Michele De Luca. Mentre alle 18.30 coro e orchestra saranno diretti dal nuovo direttore musicale del Teatro Massimo per il tradizionale concerto di Capodanno promosso dal Consiglio Comunale. Entrambi saranno trasmessi in diretta sul maxischermo in Piazza Verdi, dove già il 31 dicembre dalla mattina e fino a mezzanotte oltre si succederanno le registrazioni di opere, balletti e concerti del Teatro Massimo. I passati concerti di Capodanno naturalmente, ma anche il meglio della stagione che si è appena conclusa. Il primo gennaio alle 11 nella sala grande del teatro si inizierà con la freschezza delle giovani generazioni. I oltre 200 bambini e ragazzi che compongono il coro di voci bianche, il coro arcobaleno, la cantoria e la massimo kids orchestra eseguiranno un programma festivo e variegato, un giro intorno al mondo che si aprirà ovviamente con Beethoven, di cui si festeggiano nel 2020 i 250 anni dalla nascita, per poi passare a Bizema, Scanni, Rossini, Bersen e Strauss. Sul podio salirà anche quest'anno Michele De Luca, a dirige di cori sarà Salvatore Punturo, solista ospite sarà Pietro Adramia, pluripremiato virtuoso della Fisa Armonica. Il primo gennaio alle 18.30 nella sala grande, il tradizionale concerto di Capodanno, promosso dalla presidenza del Consiglio Comunale, con Homer Mayweber che prenderà la bacchetta per la prima volta nel suo nuovo ruolo di direttore musicale del teatro, dirigendo l'orchestra e il coro guidato da Ciro Visco, con lui come guest star Joseph Calleia, tenore maltese di fama internazionale che per la prima volta canterà al Teatro Massimo e musicisti del repertorio popolare. Il programma spazierà dal repertorio colto a quello popolare, dal teatro alla strada. Da Wagner, creando un ideale legame con l'inaugurazione di stagione con Parsifal del 26 gennaio, ad Aria e Cori e pagine sinfoniche di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Bizè, passando anche a pagine di musica popolare, in particolare africana e siriana. Lo stesso Welber, oltre a dirigere, suonerà la Fisa Armonica per due famosissimi pezzi di Astor Piazzolla, Oblivion e Libertango. A Bageria sarà riqualificato il mercato dell'ortofrutta. Ortofrutta negli anni passati ha svolto un ruolo importante nell'economia della città. Vediamo. A Bageria finalmente qualifichiamo il mercato dell'ortofrutta. Il mercato dell'ortofrutta rappresenta e ha rappresentato, soprattutto negli anni 90, un indotto economico importante, che ha fatturato milioni in quel periodo di lire. Dal 92 il mercato dell'ortofrutta è stato trasferito provvisoriamente a Contrada in Corvino, una provvisorietà che è durata 27 anni, e con un mercato che ha perso importanti fette di mercato. Molto spesso si parla di guardare con attenzione allo sviluppo economico di un territorio, a cercare di creare nuova occupazione. Noi ci stiamo provando, ci stiamo provando investendo sul mercato generale dell'ortofrutta a Bageria, riqualificandolo, spostandolo definitivamente da una zona che era assolutamente in idonea, e porteremo i mercati generali dell'ortofrutta a Bageria Mercati, qui nei magazzini Xsacos, che si prestano per il mercato dell'ortofrutta e credo che sia uno dei pochi mercati al coperto della Sicilia. Quindi l'idea è investire sui prodotti della terra. Siamo pronti perché i locali che sono di proprietà della regione già sono stati consegnati al Comune. Quindi noi siamo pronti per far trasferire già gli operatori che lavorano lì a Contradencorvino, che è un posto assolutamente in idoneo. Ma l'obiettivo dell'amministrazione è dare un'indicazione agli uffici affinché si possa realizzare un bando per ampliare il numero dei operatori all'interno del mercato e quindi ampliare l'offerta. E l'idea è di rendere un mercato generale della frutta all'ingrossi e anche al dettaglio da aprire non soltanto alla città ma all'intero territorio. Il Comune, come tutti sanno, non è nelle condizioni di dare lavoro. Però almeno deve avere la capacità che quei posti di lavoro che ci sono e quelle occasioni di lavoro che ci sono si sviluppano in condizioni agevole. E questo non è avvenuto. Noi abbiamo lavorato sin dal nostro insediamento per questo e riteniamo che questo sia un punto importante per la città poter riqualificare un intero settore e quindi creare e ampliare un indotto che purtroppo negli ultimi 27 anni si è a mano a mano, a mano a mano, a mano a mano, a mano a mano spento come una candela. Esercitazione al Falcone Borsellino per verificare l'efficacia del piano di emergenza aeroportuale in caso di incidente aereo e testare la tempestività di intervento. Al Falcone Borsellino scatta l'imponente esercitazione su scala totale per verificare l'efficacia del piano di emergenza aeroportuale in caso di incidente aereo e testare la tempestività di intervento la modalità di risposta da parte di tutti gli enti coinvolti e la capacità di coordinamento nei soccorsi finalizzati al salvataggio di vite umane nell'assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari. La simulazione si è svolta nella notte tra sabato e domenica che ha coinvolto ENA, Kenav, Vigini del Fuoco, 118, Polizia di Frontiera, Carabinieri, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, ASP, Croce Rossa Italiana, Polizia Municipale di Cinisi, Protezione Civile, Capitaneria di Porto, Ender, GH Palermo e Avia Partner. Oltre 100 partecipanti, ognuno con un ruolo ben preciso per fronteggiare l'emergenza. Lo scenario dell'esercitazione ha visto il fuori pista simulato di un aereo in arrivo da Roma con a bordo 12 passeggeri più 3 componenti e l'equipaggio all'1,30 circa. Nell'esercitazione l'aereo mobile ha dichiarato a varia tecnica l'impianto idraulico con richiesta di atterraggio in emergenza. In fase di atterraggio dalla pista 07 l'aereo mobile è uscito fuori pista e si è fermato sul raccordo Bravo. Nell'impatto con il suolo l'aereo ha subito danneggiamenti. La torre di controllo ha così fatto partire la macchina dei soccorsi con l'attivazione del piano di emergenza aeroportuale. Alcuni tra passeggeri ed equipaggio, secondo la simulazione, sarebbero risultati deceduti e feriti. Vengono simulate così le fiamme in pochissimi minuti. Prima di arrivare sul luogo dell'incidente sono i vigili del fuoco, seguiti dalle ambulanze nella fase del salvataggio dei passeggeri e del personale di bordo. Approntata anche una postazione medica avanzata. Dentro il terminal nel frattempo è stata attivata la procedura che riguarda l'assistenza a feriti e familiari con l'apertura delle sale per i passeggeri lesi e per i familiari mentre il cuore delle operazioni passa alla sala COE, centro operativo delle emergenze dove sono riuniti i responsabili di tutti gli anticoinvolti con il continuo monitoraggio di tutti i passaggi dell'esercitazione. Questi tipi di esercitazioni sono fondamentali in modo che tutta la comunità aeroportuale sia pronta in caso di reale emergenza. È stata un'esercitazione in cui tutte le componenti che lavorano nell'aeroporto si sono dimostrate pienamente all'altezza e questo perché ogni giorno garantiscono la sicurezza nell'aeroporto perché dietro l'aeroporto ci sono migliaia di persone e procedure molto precise che servono a garantire l'assoluta sicurezza dei passeggeri in qualunque situazione. Questa esercitazione è una esercitazione full scale che come da programma annuale viene fatta tutti gli anni ed è di primaria importanza perché serve a testare e validare quelli che sono i tempi di intervento e i modi di risposta da parte di tutti gli operatori per quanto riguarda il piano di emergenza aeroportuale. e poi serve per vedere la gestione soprattutto della ricerca e dei soccorsi per quanto riguarda gli incidenti aerei. La magia del Natale a Cimina con la seconda edizione delle vie dei presepi. Al polo museale è stato presentato il restauro di un'opera del 600. È la seconda edizione, quest'anno è ancora molto più ampliata, peraltro con la partecipazione della parrocchia tutte le chiese hanno ospitato parecchi presepi e abbiamo reso ancora più magico l'atmosfera del Natale. È un'iniziativa che continueremo a sponsorizzare e a migliorare negli anni a seguire per rendere sempre questo paese più attrattivo e più bello anche agli occhi di tutti i visitatori. Abbiamo presentato il restauro di un'opera del 600 di ottima fattura, stiamo continuando a incentivare il recupero del nostro immenso patrimonio. La scorsa settimana abbiamo usufruito della magnifica vetrina offerta dalla Santa Caterina d'Alessandria a Palermo dove abbiamo messo un piccolissimo spaccato dell'immenso patrimonio artistico. Continuiamo ancora in quest'opera incessante di recupero dei beni artistici ciminnesi. Oggi abbiamo inaugurato il restauro di un quadro, abbiamo conferito il restauro di altri due quadri e di un fercolo bellissimo del 600 di Sant'Antonio. Immaginiamo che questa sia la via maestra da seguire perché siamo fermamente convinti che il recupero del nostro immenso patrimonio artistico possa essere anche la chiave di volta per un lancio anche perché no economico del territorio. La via dei presepi è un'iniziativa voluta dalla parrocchia Santa Maria Maddalena di Ciminna e abbiamo realizzato grazie all'impegno e alla collaborazione di tutti i gruppi della parrocchia circa 60 presepi insieme anche alla collaborazione delle scuole, dalle elementari fino alle superiori. Tutti si sono impegnati e per chi avrà la gioia di venire a Ciminna vedrete veramente dei presepi belli che meritano anche significativi con dei temi particolari. L'iniziativa parte dalla volontà, dal desiderio di far vedere le nostre meravigliose chiese piene di opere d'arte e quindi non solo si vedranno i presepi ma si vedranno anche queste meravigliose chiese piene di opere. Abbiamo iniziato un po' a far conoscere Ciminna anche attraverso la mostra che c'è a Santa Caterina, a Palermo lì sono esposte numerose opere delle nostre chiese, in maniera particolare dalla chiesa madre in collaborazione anche con l'amministrazione comunale. Si sta cercando di far conoscere sempre di più Ciminna perché merita di essere visitata. Il pannello dipinto dai fratelli Ducato con la battaglia di Ponte a Miraglio è stato donato dagli ex PC al Museo Guttuso di Bagheria. Questo pannello è stato dipinto nel 1953 dai fratelli Ducato, Onofre e Minico Ducato, infatti sono due pannelli separati, uno dipinto da Onofre e uno da Minico e questo pannello è stato sempre arredato alle sezioni del Partito Comunista, del PDS e del EDS sempre, ha seguito un po' la nostra militanza del partito perché era sempre collocato nella stanza insieme ai quadri di Max e di Lenin, poi del funerale di Agostino Aiello fotografato dal Mimbo Pentacuro e quindi questa storia, questo pannello che è stato presente fino allo scegliamento del DS per confluire nel Partito Democratico e quindi io sono stato custodo per quasi vent'anni, un po' dall'arredo, tutto l'arredo. Cosa rappresenta questo quadro per noi? Beh, spesso i cittadini che non conoscono la storia del Partito Comunista erano convinti che il Partito Comunista fosse un partito monolitico in cui non si discuteva, non c'era debattito eccetera, probabilmente influenzati anche da questa bellissima battaglia rappresentata alle mie spalle, invece il Partito Comunista era un partito in cui c'era un grande debattito polito, una grande passione, anche scontri verbali eccetera, probabilmente era il sangue che c'è dietro dei garibaldini e dei borbone che ci ispirava e che ci portava a animare i dibattiti con molta passione politica e ideale. Quest'opera oggi rappresenta un bilancio, un bilancio di una storia molto lunga perché si parte dalla battaglia di Ponte dell'Ammiraglio, quindi siamo nell'estate del 1860. si arriva fino al momento in cui Renato Guttuso, il grande pittore bagherese, decide di iniziare un enciclo di grandi opere sulle grandi lotte di massa a partire proprio dalla illustrazione di episodi risorgimentali. Io ho avuto anche il privilegio di conoscere personalmente Guttuso e per darvi l'idea di quant'era speciale e di quant'era profonda la stima, ricordo che in una delle dediche che il maestro Guttuso mi fece mi scrisse a Michele Ducato con l'augurio di essere degno di questo glorioso nome. Ecco, questo credo che proprio esprima il massimo dell'apprezzamento che aveva nei confronti di mio nonno e di tutta la famiglia. Un legame che era un legame storico. Nel Golfo di Mondello si è svolta la settimana velica del Mediterraneo. La manifestazione si è conclusa con un giorno di anticipo a causa del maltempo. Conclusa con un giorno di anticipo a causa del maltempo la settimana velica del Mediterraneo giunta alla 57esima edizione. L'evento è stato organizzato dal Circolo Lauria di Palermo con il patrocinio della Federazione Italiana Vela e del Comune. Un'edizione da record per numero di iscritti. Nel Golfo di Mondello si sono confrontati oltre 140 timonieri, una trentina, le società sportive provenienti da tutta Italia. Per gli Optimist Juniors è primo posto in classifica per Lorenzo Albanese del Circolo Lauria che si è anche giudicato il trofeo Vincenzo Sarulli. Dominio del Lauria in radial con Nanni Sanfilippo. Per i cadetti ha vinto Derek Figurelli che si è giudicato anche il trofeo Maneschi. Per i Laser in 4.7 ha dominato il Circolo Nautico Nick di Catania. A Giampiero Pagliaro il trofeo Libero Grassi. Negli RSX vince Daniele Benedetti e la sezione Vela Guardia di Finanza segue Mattia Camboni del gruppo sportivo Fiamme. Laura Linares del Club Lauria è prima nella classifica femminile. Sul fronte Windsurfer si conferma il dominio dei cugini Casagrande dell'Albaria con il primo posto per Marco e il terzo posto per Massimiliano, secondo posto per Alessandro Alberti, infine a Giorgio Racuglia del Club Lauria il trofeo Coco. È tutto, grazie per l'attenzione e appuntamento alla seconda edizione di Media News.